corvo sono detto autoritratto e mi sono sbagliato quindi mettetevi nella testa questo voi siete responsabili delle esperienze che andate a vivere quindi è inutile che fate l'ambulanza quello è uno stronzo quello ce l'ha con me quello se è colpa vostra se state male è solo colpa vostra cioè non è colpa di qualcuno è colpa vostra del fatto che attribuite date potere a qualcuno che di fatto non ce l'ha perché non nessuno ti può fare del male da un punto di vista delle relazioni sentimentale affettive perché tu sei responsabile di quello che ti succede perché sei tu che dai un significato al significante sei tu che dai un significato al significante e quindi è il significato che tu dai ti fa percepire un'emozione e l'emozione che vai a percepire ti fa mettere in un comportamento e il comportamento che tu metti in atto determina un risultato